La risposta è oggi Ragazzi finalmente siamo giunti al primo luglio Come avete visto questa sera ore 19 Tutti sul canale ragazzi che trovate qui sopra Oppure qui sotto in descrizione Iscrivetevi mi raccomando ragazzi 20.000 mi piace per altre football challenge tutti assieme Ragazzi siamo qui tornati con la nuovissima football challenge Con la piscina regà perché oggi come avete visto dal titolo E dalla miniatura siamo qui con la currency football challenge Però i bersagli ragazzi saranno i salvagenti in acqua Quindi le ciambelle Appunto come vedete ragazzi ci sono diversi tipi di salvagenti Ci sono i donuts che valgono due punti perché sono i più facili da prendere Visto che sono insomma con il buco più largo Poi abbiamo i salvagenti normali Quelli azzurri diciamo che valgono 5 punti Mentre il canestro se facciamo appunto Centro sul canestro vale 10 punti Quindi ragazzi mi raccomando 20.000 mi piace per altre football challenge Tutti assieme Inoltre ragazzi se volete acquistare malità da calcio Passate nel link in iscrizione Sociale del shop Codice razza 15% di scolo Su tutte le malità da calcio Detto questo direi che possiamo iniziare Ok ragazzi il primo tentativo È il mio turno Speriamo di prendere la ciambella Che sarà più difficile Eeeh Harry Ho svirgolato il primo tentativo Ok ragazzi il motor Vediamo di entrare qualcosa Punto al canestro subito Porca miseria Però il mood è quello della palombella raga Ok raga adesso basta che ne becco uno A me va bene Vai Andre No Silema Vabbè fa niente Ragazzi Uomo di panza Uomo di sostanza Devi fare un ultimo punto Ok Ok Capireva Dovevi capire Palla Voleva Entrare Io sono mister sparta praga E prenderò una donut Proprio la maglia Vai mister sparta praga Andrò Non era così Era A mezza altezza Mannaggia Ragazzi Parte il secondo turno Per ora tutti a zero Mister È l'unico che ci ha dato vicino Anche a home Forse Comunque Faccio il secondo Vai Harry vai Ma perché Harry la calibri troppo Troppo forte Il piede è un po' marcio Quest'oggi Devi togliere un po' di potenza Forse Sto gli così la potenza Omar Si toglie così Come il fornello ragazzi Basta che girate un pochino E si cava la potenza del piede Adesso infatti Ok Vai Perché prima ce la vede Per prima per la tempo Mister mi sistema un po' I salvagenti Si punta sempre al canestro raga Perché quello fa fare i punti Vai Omar Porco schifo Grazie Omar Asi piedi Harry Porco schifo Ah beh porco schifo Si può dire Ma vedi ma lo faccio re Faccio vedere Ma la palombella Pronto E invece lui ce la farà Super santo Super santo Quasi si spunta quasi L'avrete fatta ma con tanta fortuna ragazzi Quanto ho un po' di potenza mister Quanto ho un po' di potenza Ok Allora ragazzi Ora la scenterò Con il mancino Vai mister Cos'è la zanzara Così mi sa che non andava mister Stiamo capendo come si tira Ma ci arriveremo Ora non mi ricordo con quale pallone ha calciato prima Però questo qua mi sembra il più adatto Proviamoci Piatto Quasi Pochissimo Quanto si va mal bene Ma adesso L'ho visto lì ragazzi Guardate Grazie Tati Adosso a Tati Mentre tutto sono impegnato Eccolo mister Io non dico nulla Agisco solo Bisogna parlare dopo Parla il campo Parla solo dopo La giocata Eh sì un'altra magari Un'altra volta Ragazzi fino a mo' il buco Non l'ha beccato nessuno Tati facci vedere come se c'entra un buco Bello Ha girato troppo Tati Beh sì Sul bordo Ragazzi faccio questo che mi sembra Il pallone di Dragon Ball Z Ok Ti dà la potenza per farlo Andrea Sono un super saiano No La svirgolata Vai Harry mi sembra un pastore con le pecore Vai mister Ce le sto domando tutte qua Vediamo Beh Vai Harry Vai beccate tu Non è andata Ma perché Raga sono tante Ok ragazzi Adesso ce la farò Vado a fare Vai a entrare il buco Ah Ascattati c'entra sto buco Oh Ma è spostata la legge Arrivato Ci arrivava prima Ragazzi devo fare in fretta Perché altrimenti si spostano tutti quanti Due moni L'ha fatta L'ha fatta A volte la troppa velocità porta A non fare le cose bene Vai 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 Si spostano Vai L'ha fatta L'ha fatta L'ha fatta L'ho vede Madonna Ci sarò sempre più vicino però No Non vale con la sponda Ragazzi come il super santo Perché è il super santo Se il palore Vai fammi il tocco mister Mister fammi il tocco Eh sì Non ha girato stavolta Mister Ma voglio Vai Dai Ok ragazzi Si riparte Si rinfrescati un attimo No Vabbè dai però perché non è gonfiata quello Infatti se no c'entrava sicuro Oh io mi sento Tati che deve tirare Tati con questa Lascia così vai Ragazzi Vabbè qua adesso Tati adesso Vabbè dati Che gli ostacoli Raga mister Mister Vai mister Ma non già fosse dentro Vabbè di provare uno va Raga è tutto bagnato Proverò centrale Da Dai Dai Ma che palle Sempre lo spigolo Li prende Harry tu tramite l'editing Capirei già Se io già l'ho presa Quindi Metti già la musica epica Andresi tutte qua Andresi tutte qua La spassata mister Con il pallone delicata raga Perché è giallo blu E l'accoppiamento dei colori Più No Vai Tati Che lì vai Però mi spige Eh sì dai Ragazzi Ora tireremo tre palloni alla volta Perché per ora non stiamo centrando niente Voi non lo sapete perché in editing è tutta un'altra cosa Però abbiamo stoppato c'è la cam due volte Visto che si surriscalda Quindi una cam sarà in movimento E vedremo appunto di centrare qualche pallone Raga Vai Harry Questo è tuo Harry No Vai 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 Un'andato Vai 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 Non è entrato in piscina È come una rimessa laterale Con la giornata della piscina È gol Troviamo Ma che schifo che faccio Ok Non è ricattato in questo Lo salto No Non c'è il mio credere Dai Sempre quello spigolo intorno alla ciambella Vado a prendere il pallone Vai Chris Gamer Yeah Passano Cavolo Trovo col super Oh mister C'è neanche corri in pallo nella ciambella In modo strano non entra questo pallone Questa volta non sono andato almeno vicino Porca Ragazzi tocca a me Si va Si va Oddio Sono finito Tosso Fai i dati Sì L'ultimo L'ultimo Via questo Ti ho messo Tentra più Sgamer challenge Allora come potete vedere ragazzi Mi ha messi in una posizione taglia Nel quale poterci entrare esattamente almeno due centri su tre Vai ormai vai Vediamo Uno andato No Niente No Vai Andre Vado Sono tutti qua Porca miseria Ragazzi Allora Nessuno sta mettendo dentro niente Qua ce n'altro c'è una spina la tolgo Sono tutti la riannichiati Basta centrare con la zona lì E' buona Dai Impossibile però Ma è entrata no Falle Servo l'assist Terry Vai Andre Vai Dai Dai ancora Però cacchio Sempre uguale La salita solo Ci facciamo un altro Andre Andrè Andrè con questo Con l'assist Guarda così Terry Vai 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 Con la c'era il canestro Bisogna metterla molto più alta Sì Oh Sotto Quello sotto Potrebbe valere Un attimo andiamo a controllare la var Allora Ci buttiamo in piscina se vale Var E' buono E' buono Buona Quindi ragazzi Questo video Riuscire qui Diciamo che Era un po' Difficililo come video Mister C'è mezzo riuscito A centrare appunto Il gommone C'è la vento C'è la vento Quindi ragazzi Vi raccomando 20.000 mi piace Prossimo video In piscina Appunto con il calcio Mi raccomando Passate nella descrizione Che è importantissimo Dato questo Lasciate un bel mi piace Un bel commento Scrivetevi al canale Noi ci beccavamo Nel prossimo video A BELLA RAGAZZI A BELLA RAGAZZI